Va a processo per tentato omicidio il quarantenne che il 30 ottobre scorso lanciò la figlia di due anni dalla finestra del bagno di servizio a Fisciano. La procura di Nocera, dopo la deposizione della perizia psichiatrica, ha chiesto il giudizio immediato e data l'accertata incapacità di intendere e di volere, il processo potrebbe già chiudersi davanti al GIP. L'uomo non ha mai negato la volontarietà dell'insano gesto, né ai carabinieri intervenuti al momento del tragico episodio, né davanti al giudice, affermando di aver lanciato la figlia dal terzo piano della propria abitazione dopo aver sentito per giorni la voce di Dio che gli diceva di farlo. Solo pochi giorni prima dell'accaduto, l'uomo era stato sottoposto a una visita psichiatrica da cui era emersa una situazione di forte stress ed esaurimento, per cui gli erano stati prescritti due farmaci, utili a chi soffre di agitazione, disordini della personalità e schizofrenia. Farmaci che il quarantenne aveva assunto la sera precedente e la mattina dei fatti, prima di lanciare la piccola dalla finestra, che miracolosamente, dopo un tempestivo ricovere o un intervento urgente, non ha subito gravi conseguenze dalla caduta e dopo le dimissioni è stata affidata congiuntamente alla madre e al nonno paterno. Di recente, inoltre, il sostituto procuratore aveva accertato nell'uomo un disturbo psicotico breve con marcato fattore di stress, portando il GIP a predisporre la revoca del carcere per l'uomo e il trasferimento presso una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in quanto ritenuto socialmente pericoloso.